Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare come sia possibile avere il plugin di Adobe Flash sempre aggiornato anche su Linux, come recita qua il titolo. Ecco, dico anche perché immagino che se vivete in ambito Linux come me sappiate già che Adobe, cioè la ditta produttrice di questo famoso plugin, ha deciso da un bel po' di tempo di abbandonare lo sviluppo per Linux di questo plugin, quindi lasciarlo solo per le altre piattaforme. Si concentra solo sulle altre piattaforme ma non più su Linux. Il risultato di ciò è che a portata di click, quando vogliamo installare questo plugin sul nostro Ubuntu o in qualsiasi altra distribuzione Linux, ci troviamo bloccati alla versione come vedete qui dove io l'ho installato sul mio sistema, la versione 11.2 e sarà sempre così installato alla versione 11.2 anche in futuro, fino a quando Adobe garantirà il supporto a questa versione. Ecco, la ditta ha garantito per diversi anni ancora la gestione di questa versione ma più nessun avanzamento. Ecco, è pur vero che questo plugin col tempo è destinato a diminuire di importanza nei confronti del nuovo standard HTML5. Ecco, per esempio Google stessa con il suo portale YouTube sta lavorando in questo senso. Diciamo che al momento, allo stato attuale per esempio, tutti i video pubblicati senza inserti pubblicitari possono già funzionare con il nuovo player HTML5 al posto del plugin di Adobe, ma se nei vostri video inserite degli inserti pubblicitari, al momento, essendo ancora in beta tutto questo lavoro di Google, al momento si passa di nuovo a usare il plugin di Adobe, quindi tutti i video con degli inserti pubblicitari non funzionano ancora con l'HTML5. Ecco che il plugin di Adobe, volenti o non volenti, al momento è ancora necessario, anche perché in realtà in rete è ancora molto diffuso l'uso di questo plugin. Non è tutt'altro che morto ad oggi, quindi è domenica 28 aprile, è tutt'altro che morto e quindi volenti o non volenti è necessario. Non è che la versione 11.2 funzioni male, è soltanto che è un dato di fatto che è una versione vecchia rispetto all'ultima attuale corrente di questo plugin. Quindi se proprio vogliamo essere aggiornati all'ultimo grido, diciamo così, dobbiamo usare un modo per aggirare questa decisione di Adobe di non più sviluppare Pelinus. Come facciamo? Facciamo capo ancora una volta Google, che ha un suo progetto che si chiama Pepper Flash. Questo progetto per Flash è quello che permette al suo browser ed esclusivamente al suo browser Chrome, attenzione, Chrome, di avere Flash sempre aggiornato, quindi all'ultima versione. E siccome questo browser Chrome di Google funziona benissimo su tutte le piattaforme, quindi Windows, Mac e Linux, di riflesso usando Chrome abbiamo anche il plugin Flash aggiornato. Quindi, come dico qua, una condizione per avere il plugin Flash e usare il plugin Flash aggiornato all'ultima versione è installare sulla propria distribuzione Ubuntu o quant'altra distribuzione Linux il browser Chrome col Pepper Flash integrato. Ecco, e allora vi chiederete come mai stai facendo questo video se l'unica cosa da dire è questa. Basta che ci scarichiamo o Google Chrome, il browser, oppure agganciamo ai nostri repository, il repository di Google e poi installiamo Google Chrome e siamo a posto. Ecco, sì, in effetti questa è una strada, però io sto facendo questo video per l'altra strada, quella un po' più open source, diciamo. Perché come ho già avuto modo di spiegare in un altro dei miei video, in realtà Google ha un progetto completamente open source che fa da palestra di sviluppo per poi finire nelle versioni definitive in Google Chrome. E questo progetto open source si chiama Chrome, Google Chrome, quindi sappiate, se non lo sapete, che prima si sviluppa Chrome e poi quando tutto è consolidato va a finire in Chrome, che è il prodotto finale proprietario di Google, diciamo così. Mentre Chromium è completamente open source. Naturalmente se posso usare open source lo uso, quindi privatamente sul mio PC Ubuntu non ho mai sentito necessità di usare direttamente Chrome e ho sempre installato Chromium, che è presente nei repository di Ubuntu. Essendo un software open source è direttamente presente nei repository standard ufficiali di Ubuntu, quindi alla portata di un click. Come vedete io uso Chromium, che ha questa icona a sfondo e a tonalità blu-azzurre rispetto, che non si differenzia come disegno da Google Chrome, ma solo come i colori. Quindi richiama se volete Chrome, ma vedete che se è tutto sul blu-azzurro è Chromium e non Chrome, che è semplicemente il fratello open source di Chrome. Però una delle differenze tra Chrome e Chromium è appunto che il plugin PepperFlash non è integrato per difetto nel browser e quindi dobbiamo fare un piccolo lavoro noi per ottenere la stessa funzionalità di Chrome. Quindi chi usa Chromium come me, faccia gli stessi passi che adesso vi presento in rapida sequenza e avrete anche voi la possibilità, poi questi passi sono da fare una tantum e da questo momento in avanti, come sempre, come tutti i sistemi lino si aggiornano da soli, arriverà una nuova versione e Flash si aggiornerà da solo anche per il vostro browser Chromium. Allora, come facciamo? Lo facciamo con un terminale, visto che ci sono vari modi per fare quello che stiamo per fare, trovo che sia più spiccio farlo con un terminale, perché vi basta in fin dei conti fare copia e incolla di questi comandi, che ovviamente, manco a dirlo, vi lascio in descrizione del video, un copia e incolla, eseguite, seguite il risultato dei comandi, se va tutto bene siete a posto in un attimo senza aprire diverse interfacce grafiche per fare queste operazioni che sono decisamente più rapidi, più spicci a terminale. Insomma, ecco, quindi apriamo un terminale e cosa dobbiamo fare? Dunque, recentemente è stato creato un repository PPA che ci facilita questa operazione, questa installazione, quindi se avete almeno Ubuntu 12.04 come minimo e successive, potete sfruttare questo repository PPA per semplificarvi il compito. Dico questo perché in realtà l'operazione di attivare Pepper Flash su Chromium era già possibile prima, ma in un modo, diciamo, un po' più complicato, tutto più manuale. Questo repository PPA ci semplifica le operazioni a pochi comandi, come potete vedere qua. Ecco, e sottolineo, questo, diciamo così, trucchetto di ottenere Flash sempre aggiornato funziona solo con i browser di Google, quindi Chromium e Chrome, quindi non con altri browser. Quindi, se volete raggiungere lo scopo, o già usate Chrome e Chromium e siete a posto, oppure vi convertite a Chrome o Chrome, oppure vi tenete la versione vecchia 11.2 per l'eternità, diciamo, fino a che morte non ci separi da questo plugin. Allora, detto ciò, possiamo anche chiudere l'Ubuntu Soster Center perché non ci serve più. E parliamo, per prima cosa, del repository PPA che abbiamo bisogno. Essendo un repository aggiuntivo ai repository presenti sul vostro sistema, dobbiamo dapprima aggiungerlo. Ed è questo, ecco, è presente, il repository PPA è presente a questo link e dove si spiega lo scopo, vedete, Pepper Flash, si parla proprio del progetto di Google Pepper Flash, e questo è un installer del Pepper Flash plug-in, quindi questo PPA ha lo scopo e unico scopo di permettervi l'installazione semplificata di questo plugin Flash, Pepper Flash aggiornato. Allora, bisogna aggiungere, ops, bisogna aggiungere questo PPA per prima cosa. Quindi ho detto, facciamolo da terminale che è più spiccio e allora procediamo. Adesso io l'ho già fatto sul mio sistema, quindi non eseguirò fino in fondo tutti i comandi, ma vi mostro, insomma, cosa dovete fare voi proprio pedestremente. Quindi seguite questi comandi. Quindi dobbiamo aggiungere l'archivio PPA al nostro sistema Ubuntu. Quindi copiamo, voi lo farete dalla descrizione del video, io lo sto facendo dalla mia scaletta del video, però è la stessa cosa. Copiamo questo comando, lo incolliamo nel terminale, si fa Enter, verrà chiesta la password e poi, dopo aver messo la password in modo corretto, questo comando verrà eseguito e aggiungerà all'archivio dei vostri repository, quindi a tutto quello che già possedete, anche questo archivio. Adesso io non lo faccio perché l'ho già fatto, quindi interrompo il comando, però una volta messa la password basta seguire quanto dice il terminale, se è tutto ok lo saprete riconoscere, è a posto. Finito questo comando, dobbiamo aggiornare l'insieme dei repository, quindi copia e incolla anche di questo secondo comando, quindi abbiamo fatto il primo, stiamo facendo il secondo. Questo comando diciamo che aggiorna la lettura dei repository, perché una volta aggiunto il repository con il primo comando non è sufficiente, il nostro sistema non prende ancora atto che quel repository è stato aggiunto, ma bisogna aggiornare tutto l'insieme dei repository in modo che si renda conto il nostro sistema che ne è stato aggiunto uno con i suoi software a disposizione, in questo caso un solo pacchetto che lo vedete qua sotto. Ecco, quindi si fa stesso metodo, scoppia e incolla nel terminale, Enter. Se avete già messo la password sopra, è ancora valido, non ve la chiederà più, io non la metto, quindi me la chiedo ogni volta, fate Enter, eseguirà il suo lavoro, aspettate che finisca. Finito questo secondo comando, il vostro sistema Ubuntu si è reso conto che c'è questo repository in più e saprà che c'è anche questo pacchetto in più da poter installare. A questo punto possiamo installare il PepperFlash plugin e quindi usiamo questo ultimo terzo comando. Sempre con lo stesso sistema, copia dalla descrizione del video sul mio canale YouTube, incolla nel vostro terminale, fate Enter. Ripeto, se avete già messo la password non ve la chiederà più, almeno per questa sessione di terminale e per un tot di tempo sarà valida, credo 5 minuti, dopo ve la richiederebbe. Fate anche questo e questo installerà il plugin Flash aggiornato. Ecco, questo è da fare come per tutti i software su Linux, diciamo una tanto, questi tre comandi sono da fare una tanto, avete aggiunto il repository, avete aggiornato l'insieme dei repository, avete installato il plugin PepperFlash, quindi in futuro quando si aggiornerà questo pacchetto sapete si aggiornerà da solo con il sistema normale degli aggiornamenti di Ubuntu e non dovrete più fare questo lavoro. Quindi questo è il difficile, tra virgolette, poi già fatto, ecco. Abbiamo installato questo. Adesso però, sempre una tanto, dobbiamo adeguare un file di sistema per Chromium, quindi per il nostro browser Chromium, per fare in modo che il browser non usi più il plugin Flash originale, quello fermo alla versione 11.2, quindi quello che non si muoverà più, ma che usi questo al posto di quello. Quindi non è necessario disinstallare il vecchio plugin Flash, può rimanere l'installato, avete visto che io l'ho tuttora installato, non mi sono preoccupato di disinstallarlo, perché con questa sequenza di comandi che faremo fra un attimo qua, adegueremo un qualcosa nel sistema, in modo che Chromium usi questo aggiornato al PepperFlash e non più quello originale dei repository di Ubuntu. Quindi in realtà possono essere installati entrambi, ma verrà usato grazie a queste modifiche, anche queste da fare una tantum, quindi lo facciamo adesso e poi non dobbiamo più pensarci, in modo che venga usato questo plugin. Allora, dobbiamo, un file di sistema ho detto, quindi un file di sistema implica che c'è bisogno delle autorizzazioni di amministratore, come tutti questi comandi, questi tre comandi sono dei comandi che gestiscono i repository, quindi le parti, i contenitori di software di Ubuntu e vedete che davanti ci ho messo sempre il comando sudo, che vuol dire superuser do, cioè amministratore fai questo, ed ecco perché mi ha chiesto la password dell'amministratore. Idem, la stessa cosa dobbiamo fare con questo file di sistema, dobbiamo entrare a editare questo file, cioè a modificare questo file, che è un semplice file di testo con dentro alcune informazioni, in modo che Chromium funzioni come deve funzionare. Noi accediamo a questo file, lo modifichiamo per i nostri scopi, quindi copia anche di questo comando e incolla, ecco, questa volta non è un apt qualcosa, come vedete qui apt, apt, apt per gestire i repository, ma è nano che è un editor di testo da terminale, ecco, diciamo che è il corrispondente di g-edit, il consueto editor di testo che, se avete già usato un editor di testo in Ubuntu è quello, quindi il corrispondente di questo, che è il solito g-edit, che è il quale probabilmente siete più abituati, c'è un editor di testo a terminale che si chiama nano, ed è già preinstallato su tutte le installazioni di Ubuntu, quindi non dovete far nulla, basta che lo richiamate con il comando per agire come amministratore di sistema, anticipate sudo, spazio nano, che è l'editor di testo, e il percorso, il file che dobbiamo modificare, facciamo enter e questa volta gli do la puzzle perché vi voglio mostrare il file, spero di scriverla giusta, ok, siamo entrati nel, in questo file, vedete che nano è un editor di testo che vi dice avete aperto questo file, questo è il contenuto del file e qui sotto ci sono alcuni scorciatoi da tastiera per agire appunto su questo file, ecco. Cosa dobbiamo fare una volta entrati in questo file? Non dobbiamo toccare nulla se non aggiungere una riga, questa riga, dopo l'assegnazione chromium flags, ecco. Allora, come ho detto io, questo lavoro l'ho già fatto, quindi qui vi trovate già la versione finale di questo file, in realtà, quando entrate voi, se lo state facendo per la prima volta, questa riga non l'avete, l'ultima riga di questo file è questo, chromium flags uguale virgolette virgolette, ecco. Noi dobbiamo aggiungere una riga dopo questa riga, quindi si arriva qui, si arriva qua in fondo, fate enter per creare una riga nuova, adesso appunto io l'ho già fatto, quindi, e copiate e incollate esattamente questa riga, esattamente questa, copiate e incollate questa riga, esattamente come la vedete, quindi un puntino, uno spazio, slash, eccetera, eccetera, esattamente questa riga, fate copia e la incollate qui in nano, praticamente fate tasto destro, incolla, ok, adesso me l'ha messo due volte, naturalmente, perché era già presente, quindi cancello il doppione, e voilà, e avete finito. A questo punto, per chiudere, potete salvare, potete, da questo editor nano, come si fa a salvare, vedete qui che c'è scritto salva, e questa scorciatore da tastiera vuol dire il tasto control, control o, vedete, appiccetto vuol dire di usare il control e la o per, come lettera per dire salva, quindi control o, e lui vi dice, devo salvare lì, vi chiede la conferma, nome del file in cui salvare, fate enter, e ha salvato, scritte sei righe, vi confermo, vi ha salvato il file, questo vuol dire che ha scritto, poi per uscire, altra scorciatore da tastiera, vedete appiccetto, che vuol dire control, x, quindi fate control, x, e uscite dall'editor nano, ecco. Se non avete mai usato il terminale, posso capire che, magari, siete un attimo perplessi o intimoriti, ma dovete veramente, pedestremente, seguire quello che vi ho detto, che è molto più spiccio che non aprire G-Edit come amministratore, eccetera, eccetera. Credetemi, quello che abbiamo fatto adesso, l'ho spiegato passo passo, ci ho messo quello che devo metterci in minuti di video per spiegarvelo, però è veramente spiccio. Chi sa già usare il terminale, lo fa in 30 secondi, quello che ho spiegato adesso. Quindi è veramente facile. E una volta usciti dall'editor nano, abbiamo finito le parti, tra virgolette, difficili. Cosa ci manca? Naturalmente, se avete aperto Chromium, o se l'avevate aperto durante queste operazioni, dovete chiuderlo e riavviarlo. Quindi chiudete completamente il browser Chromium, tutto tutto chiuso, e lo riaprite, lo riavviate. A questo punto deve esserci una differenza, perché dovrebbe aver preso in considerazione Pepper Flash, e non più il vecchio plugin Flash. Come facciamo a vederlo? C'è una pagina standard di Chromium, che vi presenta tutti i plugin attivi nel browser, che è questa. Voi scrivete esattamente questo, chrome, due punti, barra barra plugins, che io l'ho già aperta qua. Chrome, vedete, barra barra plugins. E qui c'è un elenco dei plugin attivi sul mio, per esempio sul mio browser, in questo momento c'è un po' di tutto. E quello che è interessante, però voi fate scorrere questo elenco, vedete, Adobe Flash Player, versione, oh oh che bello, 11.7. 11.7, 7.0, eccetera, eccetera. Quindi vedete che non è più la 11.2, ma è quella aggiornata allo stato attuale di Adobe Flash, quindi siamo arrivati alla 11.7. In questo momento, da questo momento, il mio browser Chromium, così come il Chrome di Google, sta usando il nuovo Flash aggiornato. Et voilà, è finita lì. Con questo io ho finito il video. Spero che la parte a terminale non spaventi troppo chi non ha mai avuto che fare con il terminale, è veramente una cosa passo passo. Una volta fatto quello, una Tantum, voi avete il vostro browser Chromium che sta usando il plugin Flash all'ultima, ultimissima versione. E si aggiornerà da solo, quindi non dovrete più far nulla di particolare. Ecco, spero che, come sempre, questo video vi sia risultato utile. e con questo chiudo, un saluto e alla prossima. Ciao ciao!